Io credo che sia più un fattore psicologico in questo momento, abbiamo bisogno di sbloccarci, di ritrovare il nostro gioco, quello che abbiamo fatto in parte sia con Latina che con Piacenza e avere delle certezze del nostro gioco perché in questo momento non sappiamo dove aggrapparci nei momenti di difficoltà. Andiamo a Molfetta pensando di poter fare bene e soprattutto di migliorare la prestazione che abbiamo fatto sabato qui in casa contro Ravenna. Molfetta è una bella squadra, ha avuto dei buoni risultati fino ad ora, ha alcune individualità importanti e è allenata da un ottimo allenatore, dunque sarà una delle squadre con le quali lotteremo fino alla fine per avere un posto nei play-off.